Gravina di Puglia, lavori per quanto riguarda il centro storico, vediamo cosa ne pensano i cittadini. Cosa ne pensa della ristrutturazione del centro storico? Per lavoro, il lavoro che è stato fatto prima sta fatto male. E adesso? Adesso sta bene, hanno aggiustato qua, vedi tutto bene pulito, hanno messo le graste, per me sta bene. Di questo centro storico che cosa ne piace? Come centro storico? Cioè hanno sistemato bene bene, sta sistemato bene, sta sistemato bene. Quindi piano piano? Piano piano, giustamente. Come hanno fatto Matera su Matera. Ma lì ci sono i soldi però? Sì, però pure qui ci sono i soldi però... Io sento che per me ha fatto una grandissima cosa, ha ristrutturato Gravina proprio perché quando Matera verrà fatta patrimonio, capitale del patrimonio dell'UNESCO, Gravina già si sta preparando e si sta attrezzando in tutto e per tutto. E' apprezzabile il contributo all'urbanistica dato dall'attuale amministrazione, non è un messaggio politico ma è apprezzabile questo intervento. Poi abito da queste parti, quindi questa risestimazione di Piazza San Togostino è buona. È buona, sì, è buona. Grazie. Non sono un urbanista, non sono un architetto però meglio di prima voglio dire. Quindi approviamo. Approviamo. Effettivamente è stato fatto un bel lavoro e molti complimenti per l'amministrazione e grazie a voi per comunque ristabilire un assetto a questo paese. Il Comune ha fatto un ottimo lavoro? Sì, sì, ha lavorato bene.